Appena inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza Costabile di Sessa di Agropoli, presente al taglio del nastro, anche il sindaco Costabile Spinelli con il gonfalone del comune di Castellabate per suggellare l'importante momento istituzionale e partecipare allo scoprimento della targa che dedica la sede a un cittadino di Castellabate. Costabile di Sessa, nato a Castellabate il 3 giugno 1913, finanziere di mare motorista, è stato decorato con croce di guerra al valor militare e alla memoria. Noi siamo particolarmente orgogliosi, contenti di che la caserma, l'intitolazione della caserma della Guardia di Finanza, un nostro concittadino, doverosamente eravamo qui col gonfalone del comune di Castellabate proprio per testimoniare questa vicinanza e questa appartenenza. Quindi siamo molto contenti, è una bella giornata, un momento importante nel quale si insiede un presidio dello Stato, una caserma su un territorio, un presidio dello Stato e in questo momento ce n'è bisogno, quindi ce n'è bisogno di avere queste testimonianze, c'è bisogno di avere vicinanza ai cittadini e una caserma, un luogo istituzionale, quello che serve e che testimonia maggiormente questo sentimento di vicinanza.